E' in programma venerdì 24 settembre alle ore 18.30 presso la parrocchia Santa Maria Assunta alla Licinella di Capaccio Pestum la prima tappa del cammino diocesano promosso dall'ufficio Famiglia e Vita per vivere l'anno pastorale indetto da Papa Francesco e dedicato alla Moris Letizia, l'esortazione apostolica sull'amore della famiglia. L'idea del Papa è quella di far vivere in ogni diocesi un cammino che accresca la centralità della famiglia e delle dinamiche che nella vita di ogni giorno e nei diversi contesti e luoghi chiedono ai cristiani di rendere vivo il Vangelo. Questa prima tappa a cui sono invitati i rappresentanti delle foranie, i movimenti e le associazioni laicali unitamente ai fedeli della diocesi di Vallo della Lucania, vedrà l'intervento di Teresa Moscarello e Angelo Imparato, responsabili dell'ufficio Famiglia della Diocesi di Teggiano Policastro. Com'è nell'auspicio del vescovo di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, e dei responsabili dell'ufficio Famiglia e Vita della Diocesi, Don Roberto Guida e Silvana e Osvaldo Santoro, la Moris Letizia può rappresentare la traccia per vivere in pienezza quest'anno pastorale, raccogliendo le diverse sollecitazioni dell'esortazione apostolica e renderle seme vivo nel cammino ecclesiale di ogni chiesa locale.